Non importa quale sia la vostra situazione attuale, sappiate che ogni giorno è un'opportunità per creare la vita che desiderate. Ma a volte, abbiamo bisogno di un po' di motivazione per continuare a perseguire i nostri obiettivi. Quindi, se siete pronti, mettiamoci all'opera. Avete mai sentito di essere bloccati o avete paura di fallire? Forse avete subito una sconfitta o siete insoddisfatti della vostra situazione attuale. Capisco che tutti affrontiamo sfide nella vita, ma sappiate che non è importante quale sia il vostro problema, ciò che conta è come lo affrontate. E se invece di vedere il vostro problema come un ostacolo insormontabile, lo vedeste come un'opportunità? Un'opportunità di crescere, di imparare e di migliorare. Quando ci troviamo di fronte a una sfida, abbiamo la possibilità di superarla e di diventare più forti di prima. Siate coraggiosi e non arrendetevi. Per superare le sfide, è importante focalizzarsi sulle azioni positive che possiamo compiere. Chiedetevi, quali sono le azioni che posso fare oggi per avvicinarmi ai miei obiettivi? Iniziate con piccoli passi, ma continuate a muovervi avanti. E se avete bisogno di aiuto, chiedete. Non c'è nulla di sbagliato nel chiedere aiuto. La perseveranza è la chiave del successo. Ci saranno momenti in cui le cose sembreranno troppo difficili o impossibili, ma non arrendetevi. Continuate a spingervi avanti e a perseguire i vostri obiettivi. Non importa quanto tempo ci vorrà, non importa quanti fallimenti ci saranno lungo il percorso. La perseveranza vi porterà alla meta. Quindi, per riassumere, non importa quale sia il vostro problema, trasformatelo in un'opportunità. Focalizzatevi sulle azioni positive e sulla perseveranza. Continuate a credere in voi stessi e nei vostri sogni. Ricordate che tutto è possibile. Grazie per avermi ascoltato oggi. Ci vediamo al prossimo video.